Ciao a tutti, sono Noemi Cantele e vi aspetto il 20 maggio alla cronoscalata dell'Ardena. È la mia salita preferita e il mio record è 7 minuti 55. Cercate di battermi! Cercate di battermi! Cercate di battermi! Cercate di battermi! Il pezzo più difficile è quello centrale dopo un chilometro e mezzo, però vi ricordo anche che la cronoscalata è una gara non competitiva e dunque vi auguro solo di divertirvi. E poi la vostra fatica sarà premiata. Tutti i soldi raccolti verranno utilizzati per restaurare il santuario di Ardena. Vi aspetto tutti il 20 maggio e un saluto a Don Silvano. Grazie! 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 Grazie!